Bomanti Italia, prima giornata siamo partiti col botto, con l'effervescenza, con grande considerazione da parte dei produttori e da parte anche dei operatori del settore tecnico-scientifico che sono intervenuti in maniera entusiasta portando il loro know-how, la loro conoscenza, la loro scienza a disposizione di quanti operano nel settore spumantistico e delle aziende che sono state presenti e che hanno partecipato numerose. Cinque masterclass, grande affluenza anche a queste, abbiamo toccato argomenti che vanno dalla spumantistica di montagna al metodo classico, alla falanghina, al sannio, a altri prodotti, altri masterclass estremamente interessanti. Tutto questo è una giornata indubbiamente piovosa, olgiosa, ma bene o male rinfrescata da una grande verve di interfaccia con le persone che sono intervenute a questo evento. Spumant Italia si dimostra un'ennesima volta un punto culturale importante nel panorama nazionale, un punto di riferimento per quanto riguarda il settore e soprattutto l'intervento di le aziende e degli operatori del settore e non solo, enologi e giornalisti ci gratifica in tutto questo. Quindi domani sarà un altro giorno e vedremo quale altro risultato porterà in fondo questo spumant Italia. Buonasera a tutti.